Nel centro-sinistra Terramano la questione ora è come fare sintesi su un unico candidato sindaco. L'elegante passo indietro del presidente della provincia Renzo Di Sabatino, candidato designato dal Partito Democratico, è stato fatto esclusivamente in favore di un accordo unitario tra i due aspiranti sindaci, Dalberto e Cavallari, entrambi ex PD ed ex capogruppo in consiglio comunale in epoche diverse. Un accordo che sembra non essere però a portata di mano. Giovanni Cavallari non ancora si presenta ufficialmente alla città con un suo programma e non si conosce ancora il peso dei suoi sostenitori. Gian Guido Dalberto invece mostra le truppe del suo comitato e viene incoronato candidato sindaco anche da Alleanza Civica, un raggruppamento di ben cinque liste. La proclamazione è avvenuta durante un'assemblea pubblica nella sala polifunzionale della provincia dove tanta sinistra storica era presente. Un pubblico anziano però che tradisce la mancanza di un evidente ricambio generazionale. Aspetto che non è passato inosservato al Partito Democratico di Teramo, che a sorpresa potrebbe rivedere l'appoggio ad un candidato civico e passare nuovamente all'attacco con una propria candidatura più fresca e più autorevole. Senza il consenso delle giovani generazioni, commenta Renzo Di Sabatino, c'è solo il precipizio politico e in questo movimento civico di giovane c'è poco. Il centro d'Essa Teramano, in questa corsa ad individuare le candidature vincenti, è forse più silenzioso ma altrettanto spaccato e agitato. I gruppi civici che fanno capo a Mauro Di Dalmazio, che hanno sostenuto per due volte l'elezione del sindaco forzista Maurizio Brucchi, uscendo poi dalla maggioranza nell'ultimo periodo di governo, intenderebbero convergere sul nome di Giandonato Morra, fratelli d'Italia. Quest'ultimo però non avrebbe vita facile in campagna elettorale se il suo nome fosse sostenuto anche da Brucchi stesso e da Paolo Gatti, perché a quel punto non rappresenterebbe più la discontinuità che i cittadini invocano da tempo. Un bel rebus. Restano i 5 Stelle. Per loro è più semplice, il candidato è unico e presto ne conosceremo il nome. E il movimento ad attrarre maggiormente i giovani e gli scontenti, la sfida sarà proprio su di loro.